Allora ragazzi, oggi alle 18 c'è Napoli-Verona, sono un po' influenzata, ho un po' di raffreddore, tosse, diciamo che a Napoli, ma poi tutta Italia, è stato un aprile, è un aprile strano, tutto il mese d'aprile ha piovuto, freddo, sembra novembre, ho preso un po' di raffreddore, un po' di tossine, dediché ovviamente, ma già ce l'ho da un po' di tempo, diciamo che io sono un soggetto che quasi sempre prendo gli antistaminici per l'allergia, diciamo che quasi sempre sto malata, perché facilmente prendo l'influenza e quando forse vado a me è sempre senza febbre, e detto questo, Napoli-Verona, partita di campionato, ovviamente più partite continuiamo a vincere, più si avvicina matematicamente la vittoria per lo scudetto, se Napoli divesse e battere il Verona, e per vincere lo scudetto basterebbe, diciamo, mi sembra tre vittorie, compresa questa, col Verona o mi sembra senza questa, comunque poi bastano, su otto partite rimaste, basta che Napoli ne vince tre, quindi ci avviciniamo sempre di più, diciamo che secondo me, se vinciamo col Verona, è fatta, per non si è invece fatto, io non credo che in sette partite poi, la Lazio ha vinto con lo Spezia, però io non credo che poi nessuna che sia Inter-Miliana che perdono punti per la strada, la Juve che ha tutti i problemi chiave quando vinca, anche se gli dovesse dare punti indietro, la differenzazione quindi non cambia, secondo me. La Lazio sta facendo un grande campionato ed è seconda e tutto quanto, però non credo possa insidere il Napoli, perché guarda se al Napoli mancassero molte più vittorie matematicamente per vincere lo scudetto, ok, perché il danno non è fatto è perché tu dà un fine campionato di cui puoi perdere sette su otto e perdi lo scudetto, ma corna facendo, non credo sia questo il caso, diciamo, del Napoli, quindi aspettiamo solo di festeggiare e di godere. Il Verona che si deve salvare, perché il Verona sta con la qua la gola, diciamo che sta più là che qua, e per salvarsi ha bisogno di punti, ho un pareggio, ho una vittoria ovviamente, e almeno un punto per rimanere in bidio e provare a salvarsi il Verona, quindi sarà una squadra guerrita, mi aspetto una squadra guerrita come sempre contro il Napoli, cacciaranno una scienza contro il Napoli e sicuramente farà una partita della vita come fanno per tutte le squadre, grandi e piccole, che contro di noi danno l'anima e per salvarsi soprattutto il Verona, per salvarsi, proverà a fare un grande catenaccio in contropiede, quindi si chiuderà parecchia, secondo me si chiuderà parecchio, per poi veramente portare un pareggio per salvarsi e poi fare il contropiede e segnare, quindi non sarà una partita facile, che sulla catena sembra facile, ma non è, noi sono tre punti che ci avvicinano al nostro sogno scudetto, che manca poco, io ancora non ci credo, perché quest'anno ancora non riesco a realizzare, perché comunque non me l'aspettavo, che proprio guarda nell'anno di Sardi me l'aspettavo, nell'anno dell'ultimo anno di Mazzar, se a volte uno sognava lì che potesse succedere, nell'anno di Beniglia, ma nell'anno di Spalletti, con tante persone che sono andati tanti giocatori, se sono andati tanti bufere, non me l'aspettavo, forse per quello ancora vorrei scalaizzare, quando sarà, sarà una mezzogna unica. Poi c'è il martedì la Champions, c'è il ritorno con il Milan allo stadio, ma raduna sempre, allora gli ultra hanno litigato da anni con della Vrenzis, ma della Vrenzis c'è la scorta, diciamo che in questi anni sono succesi tanti casino con gli ultra del Napoli, delle curve con della Vrenzis, hanno litigato tante volte, tante che non entravano più bandiere, tamburi, loro non facevano coli per sostenere e avevano litigato, molti non entravano nello stadio, quindi tanti casino, ma una cosa orribile comunque, io non so neanche da che parte stare, perché comunque io, i meccanismi degli ultra, degli stati, questo non li conosco, quindi non posso giudicare gli ultra su che base fanno queste, diciamo, fanno queste guerre della Vrenzis, non le posso giudicare, però c'è da dire che ora stanno andando forse un po' troppo oltre, come anche della Vrenzis, devo trovare una via di mezzo per poter concludere questa cosa, perché nell'anno dello scudetto, vincere lo scudetto dopo 33 anni, entrare nella storia e litigare con le tifoserie, col presidente, tu, le tifoserie e i tifosi che non entrano, è bruttissimo, e veramente quando vengono allo stadio Maradona si sentono più di fosi avversari che i nostri a volte, perché in una situazione brutta, non facciamo queste figuracce mondiali, poi l'anno prossimo si mettono a tavolino della Vrenzis e gli ultra e si vede il da farsi, ma sinceramente, falla adesso nell'anno di scudetto e sporcare questo, anche no, quindi cerchiamo se gli ultra devono trovare un accordo, ma anche della Vrenzis, dicono infatti che oggi forse, che oggi forse entrano bandiere, tamburi, sciarpe e gli ultra hanno trovato, diciamo, una specie di accordo con le tifosi, sia per oggi che martedì in Champions con il Milan, e speriamo sia così, perché è brutto sentire più di fosi degli altri, e poi per tutto questo clima, che non sembra l'anno dello scudetto, ma sembra che stava retrocedendo, sbaglia anche della Vrenzis, perché spesso ho visto gli ultra non possono entrare le bandiere, le sciarpe, eccetera, tamburi, perché devono fare dei, diciamo, dei documenti, di firmare delle cose, fare una richiesta, un più semplice fuori di casa lo possiamo fare, quindi è ovvio che gli ultra si irritano, quindi hanno anche ragione su questo, però anche della Vrenzis ha un po' paura, questi ultimi anni, disse con i tifosi della Roma, quelli del Napoli, c'è stato dai tempi che purtroppo è morto quel ragazzo tifoso del Napoli con quel tifoso della Roma che nemmeno si può chiamare tifoso, che l'ho ucciso, quindi si è stato un tanto casino, poi un paio di mesi fa sulla tangenziale litigarono alcuni tifosi del Napoli con la Roma, sempre gli ultra, e quindi è un casino ragazzi, però io non giudio perché non conosco il clima dello stato di ultra e non so della Vrenzis sui motivi, speriamo che per il bene del Napoli e di noi napoletani nei tifosi si possa sistemare, detto questo col Milan sarà durissima, perché ragazzi col Milan non è il problema fare i gol, tu puoi anche fare 1-0 se vuoi sperimentare, 2-0 passi, ma non devi prendere i gol, tu puoi anche vincere 3-1, ma devi vincere con 3 gol di scarto, perché per esempio 2-1 passano loro perché hanno fatto il gol fuori casa, noi lì abbiamo perso ma non facendo gol 1-0 in casa del Milan, 3-1 passiamo noi, 2-1 passano loro, 1-0 supplementari, 1-1 passano sempre loro, quindi il problema non è fare gol, il problema è che in casa non dobbiamo prendere gol, che è la parte più difficile perché non abbiamo Kim che è stato squalificato, per me giustamente perché non era da giallo, però sappiamo che l'albitro, il bellissimo albitro di Milan-Napoli è figlio di buona donna e quindi Kim non ci sarà, ci sarà Juan Jesus molto probabilmente a posto di Osticard che è più giusto pure come l'altro, però non è Kim, quindi non prendere gol sarà dura, durissima, fare gol, se torna Osimèn possiamo anche fare tanti gol, Osimèn dicono che sta bene, che Dio ce la mandi buona, perché senza Osimèn abbiamo sofferto tantissimo, ci è mancato una punta, ma non è manco il problema di Osimèn, ci è anche mancato Simeone, non avevamo neanche la seconda scelta, ci siamo voluti prendere sulla terza scelta che era Spaduri, e Spaduri pure stava mezzo acciaccato, quindi ha giocato poco col Milan, in secondo tempo avevamo Elmas prima di un punta che è orribile, già Elmas di suo orribile, messo prima punta è stata difficilissima, quindi il martedì per me c'è un miracolo, perché ripeto, tu puoi anche fare 1-0, vabbè andiamo ai supplementari, 1-1 passano loro, 2-1 passano loro, 3-0 passiamo noi, 3-1 passiamo sempre noi, perché 3 gol di scarto, ma ripeto che sarà difficilissimo non prendere quello pure, perché quella che dobbiamo attaccare siamo noi, quindi ci esponiamo e rischiamo di prendere il contropito del Milan e il gol del Milan, ogni gol del loro dobbiamo fare due gol noi, ragazzi c'è uno il miracolo, i miracoli a volte esistono, la palla è rotonda, e se Napoli gioca da Napoli può darsi che ce la facciamo, però sempre con Osimèn, se Osimèn si fa bene qualcosa, ma io sono Osimèn martedì, anche mezza gamma deve giocare, se no sto bene vado a fine lì, però ragazzi è difficile, comunque vada, forzionavo sempre, forzionavo spalletti e comunque vada, è stato un campionato straordinario, non eravamo chiamati a vincere la Champions ragazzi, eravamo chiamati a provare a vincere lo scudetto come ogni anno e ci siamo riusciti, punto, non sporca assolutamente niente, essere eliminati non sporca nulla, ma semplicemente il Milan è stato più bravo di noi, più fortunato, più culo pure, e ha avuto l'abitro per favore, e diciamo che il Milan è stato anche più bravo a non farci giocare tanto bene, e poi il Milan ha avuto di più, nel culo che ogni volta che giociamo col Milan, che si è campionato, Osimèn non c'è mai ragazzi, martedì sarebbe la prima volta, ogni volta che incontriamo il Milan in campionato non c'è mai Osimèn, quindi hanno culo, poi dopo fare anche la bravura al Milan che è stato bravo contro il Napoli a far, diciamo c'è Gagnan che è un portiere fortissimo, perché il Magic Mike è molto forte come portiere, ha fatto dei paratoni incredibili, ma nessuno ne parla perché parlano tutti quanti che prestazione del Milan in generale, ma è il portiere che ha fatto l'80% della partita, ecco Meret purtroppo, secondo me sul gol Meret è sul suo palo, non la poteva prendere, detto questo mi sono troppo prolungato quando parlo della Champions, e quindi ragazzi, hola paola, spacca, chi dice la mandi buono, ragazzi sarà bello vedere lo stadio pieno perché lì sarà rapidissimo, l'urlo di Champions e di tifosi, ma ragazzi che dobbiamo fare? La Champions è bella, però la Champions è differenza di un campionato che ti puoi rifare in un anno intero, sono partite sicche, quindi dentro fuori il minimo errore lo paghi come è successo con il Milan, che abbiamo avuto delle occasioni non sfruttate, loro una buona, se non sono più cinici e bravi, se passano loro solo sono metà dei primi, forza nuovo sempre, forza a tutti i nostri paletti. 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 Grazie a tutti.